Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Abbracciare lo schifo, la via dei Navy SEAL, le forze speciali americane, a una vita straordinaria, libro di Brent Gleason. Durante l'addestramento dei Navy SEAL gli istruttori spesso dicono agli studenti di abbracciare lo schifo. Questa frase trasmette l'unica lezione che è vitale per ogni SEAL speranzioso di imparare, ossia appoggiarsi alla sofferenza e mettersi a proprio agio essendo molto scomodo. In questa guida potente Gleason, vederanno di combattimento dei Navy SEAL ed esperto di leadership, vi insegna come trasformare ogni area della vostra vita secondo il metodo Navy SEAL. Può chiunque sviluppare questo livello di resilienza? Gleason lo riconduce ad una mentalità di sfida, impegno e controllo. Rivela come le persone resilienti vedono le difficoltà come una sfida, dove gli ostacoli e i fallimenti sono opportunità di crescita, poi hanno un forte impegno emotivo verso i loro obiettivi e non sono facilmente distratti o scoraggiati. Infine le persone resilienti concentrano la loro energia sulle cose che sono sotto il loro controllo, piuttosto che fissarsi su fattori che non possono influenzare. Abbracciare lo schifo fornisce una tabella di marcia che consente di espandere la vostra zona di comfort per vivere una vita più appagante e guidata dallo scopo. Attraverso la narrazione candida, la ricerca della scienza comportamentale e un sacco di autoironia, Gleason mostra come utilizzare il dolore come un percorso, rivalutare i vostri valori, sconfiggere le tentazioni, costruire la disciplina, soffrire con scopo, fallire con successo, trasformare la vostra mente e raggiungere più degli obiettivi, la maggior parte degli obiettivi che vi ponete. Cominciamo subito. Come abbracciare lo schifo? Gleason dice Il punto è che tutti noi abbiamo i nostri viaggi, tutti dobbiamo accettare lo schifo lungo la strada. Se non cadi, non ci stai nemmeno provando. Il fallimento è di solito un'esperienza abbastanza demoralizzante e sconvolgente. Può alterare la vita, le percezioni, farvi cadere sempre più in basso, farvi anche credere cose che semplicemente non sono vere. A meno che non impariate a rispondere al fallimento in modi psicologicamente adatti, può paralizzarvi e impedirvi di andare avanti. Per affrontare le inevitabili battute d'arresto, il libro offre otto realtà di fallimento che è necessario comprendere. Numero uno. Il fallimento fa sembrare lo stesso obiettivo meno raggiungibile. In uno studio di una scuola di cecchini per operazioni speciali, gli istruttori hanno fatto sparare i loro studenti a dei bersagli dalla stessa distanza su un campo non segnato. Hanno poi chiesto agli studenti di stimare la distanza dai bersagli. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio più basso credevano che i bersagli fossero significativamente più lontani rispetto a loro. e quelli che hanno ottenuto un punteggio più alto credevano che fosse più vicino. Il fallimento quindi distorce la percezione, se glielo permettete. La buona notizia è che ci sono modi per evitarlo. Il fallimento altera la percezione delle tue capacità. Così come il fallimento può distorcere la tua percezione degli obiettivi, può anche alterare i tuoi presupposti sulle capacità. Gli studenti che abbandonano l'esercito o falliscono il processo di selezione cadono in una profonda depressione, secondo Gleason, e a volte addirittura diventano suicidi. Il fallimento può farci dubitare delle nostre abilità, dell'intelligenza, delle capacità. Bisogna riconoscere semplicemente che questo è il primo passo verso l'autocorrezione. Numero tre, il fallimento può farti sentire impotente. Questo è un meccanismo di difesa mentale. Quando falliamo, il cervello invia segnali che ci fanno sentire temporaneamente impotenti. È una ferita emotiva, per così dire. Come quando un bambino tocca una stufa calda e il cervello dice di non farlo più. Lo stesso vale per il fallimento. Quando ci lasciamo convincere di essere impotenti, evitiamo con successo i fallimenti futuri. Ma questo è in realtà ciò che ti rende un fallito. Quando ascolti le voci e ti privi del successo futuro. Rinunci a tutte le opportunità che ci sono. Non tenti più di riprovarci o di magari cambiare direzione, cambiare piano, cambiare idee e riprovare. Numero quattro, un'esperienza di fallimento può causare un complesso di paura del fallimento. Le persone tendono ad evitare il successo tanto quanto cercano di evitare il fallimento. Le due cose di solito vanno di pari passo. Il successo raramente, se non mai, arriva senza sperimentare qualche fallimento lungo la strada. Questo è il motivo per cui il successo è molto scomodo. Così, invece di lavorare per migliorare le proprie capacità e abilità, le persone tornano alla base, alla loro piccola e accogliente zona di comfort. Numero cinque, la paura del fallimento spesso porta all'autosabotaggio inconscio. Come lo studente universario che decide di stare fuori a bere fino alle due del mattino prima di un importante esame o colloquio di lavoro, che sa che sarà un fiasco o il ragazzino che non riesce a praticare uno sport con la stessa naturalezza dei suoi coetanei, così dice ai suoi genitori che lo odia e vuole smettere. Questo tipo di comportamenti autosabotanti garantiscono il futuro fallimento. I migliori risultati nella vita di solito risiedono dall'altra parte della paura. Numero sei, la pressione per avere successo può causare il soffocamento. Una preparazione adeguata senza pensieri eccessivi è il fondamento per ottenere le migliori prestazioni nei momenti critici. Quindi bisogna cercare di prepararsi bene e non pensare troppo. Questo è l'unico, l'unica maniera e lo abbiamo visto anche analizzando i principi di successo di molti e molte celebrità, celebrità come ad esempio Cristiano Ronaldo, Lebron James, Michael Jordan, eccetera, Kobe Bryant. Quindi spesso il successo si basa semplicemente sul fare quello che potete fare nel miglior modo possibile ignorando quello che non potete controllare, non preoccuparvi di tutte le cose negative che potrebbero accadere, ma semplicemente agire in tranquillità. Come i muscoli che si affaticano, la forza di volontà mentale può essere sovraccaricata e denutrita. I soldati che partecipano a combattimenti prolungati sperimentano l'affaticamento da battaglia che causa pensieri offuscanti, mancanza di capacità di controllare le emozioni, confusione e persino depressione. Quindi quando avete l'impressione di sentire che la vostra forza di volontà sta svanendo, prendetevi un buon riposo e lo spazio per rivisitare le vostre motivazioni. Basta che non ci mettiate troppo tempo. Ed infine la risposta psicologica più sana al fallimento è concentrarsi su ciò che si può controllare. Questa è una delle basi dello stoicismo. Questa capacità è fondamentale per costruire la resilienza. Il fallimento può portarci a concentrarci principalmente sulla causa della nostra attuale avversità. Guardiamo indietro invece che avanti. Ci concentriamo su elementi su cui non abbiamo controllo invece di sviluppare un piano d'azione facendo leva su ciò che è sotto il nostro controllo. Andiamo a vedere alcuni consigli preziosi che il libro ci offre. Fare qualcosa che fa schifo ogni giorno. Lo stress e l'ansia possono essere grandi strumenti se si sa come usarli e si sceglie di usarli. Con tutta l'attenzione dei media e dei medici sugli impatti negativi dello stress è facile concludere che è qualcosa da evitare a tutti i costi. Questo vale sia per lo stress fisico che per quello emotivo o per l'ansia. Pensate ad un momento in cui avete sperimentato una crescita sostanziale e professionale o un momento in cui vi siete esibiti al vostro massimo livello. Diciamo finire una gara, costruire un'impresa o salvarla, ottenere il lavoro dei vostri sogni, crescere un figlio. È probabile che tutti quei momenti abbiano plasmato la vostra crescita e definito ciò che siete oggi. Attingendo al loro lavoro e alla ricerca con dirigenti d'azienda, nevisil, studenti, atleti, professionisti, gli psicologi Alia Krum e Thomas Krum hanno sviluppato un modello in tre fasi per rispondere alla pressione e sfruttare il potere creativo dello stress. Il modello si presenta in questi passi. Numero uno, vedere lo stress. Di solito ci stressiamo solo per le cose che ci interessano. Quando possiamo iniziare ad etichettare ciò che ci interessa, le soluzioni per alleviare lo stress diventano molto più evidenti. Per esempio, nei giorni in cui l'autore si sente stressato, chiede a sua moglie perché diavolo sono così stressato, l'intenzione non è necessariamente che lei risponda alla sua domanda. È un metodo per lui per scomporre le possibili cause alla radice e identificarle. Di solito non è quello che lui pensa che sia e totalmente estraneo a ciò che sta effettivamente consumando il suo pensiero. Possedere lo stress è il secondo passo. Nel profondo sappiamo che le cose che contano davvero nella vita non sono facili. Nell'addestramento SIL gli istruttori progettano situazioni esponenzialmente più stressanti e dinamiche del combattimento reale in modo che la squadra impari a centrarsi nelle circostanze più caotiche. Quando lo stress di questo percorso sembra insopportabile, gli studenti possono possederlo sapendo che è quello che hanno scelto di fare per vincere in qualsiasi situazione oppure smettere. E ultimo passo, quello più importante, usare lo stress. Anche se spesso sembra così, la risposta allo stress del corpo non è stata progettata per ucciderci. Infatti l'obiettivo evolutivo dello stress è quello di aiutare il corpo e la mente a funzionare meglio per aiutarci a crescere e soddisfare le crescenti richieste che affrontiamo. Gli atleti DELEIT e i NAVI SIL lo sanno. Se dovesse diventare l'uomo più veloce, più forte, più duro del mondo, il dolore, lo stress e la sofferenza sarebbero un passaggio regolare. E mentre la risposta allo stress può talvolta avere effetti negativi, in molti casi gli ormoni dello stress inducono di fatto la crescita e rilasciano sostanze chimiche nel corpo che ricostruiscono le cellule, sintetizzano le proteine e migliorano il nostro essere, lasciando il corpo ancora più forte e più sano di prima. Tutti noi moriremo un giorno, quindi dobbiamo pensare oggi ad agire. Ciò che conta è quello che facciamo in questo momento. Che segno vogliamo lasciare sui nostri amici, sulle nostre famiglie, sulle comunità e sul mondo in generale? Cosa non vogliamo assolutamente rimpiangere il giorno della morte? Rifletteremo sulle nostre vite e ci renderemo conto di non aver corso molti rischi e di essere rimasti al sicuro nel nostro villaggio. O magari sapremo di aver lasciato tutto quello che abbiamo sul campo di battaglia della vita. La risposta dipende dal fatto che si scelga o meno di approcciarsi alla sofferenza e di sentirsi a proprio agio nell'essere a disagio. La scelta è nostra. Questo è il libro Abbracciare lo schifo di Brent Gleeson. In questo libro Gleeson, veterano dei NaviSeal ed esperto di leadership, ci insegna come trasformare ogni area della nostra vita secondo il metodo NaviSeal. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione. Ci risentiamo nei prossimi video. Ciao! 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 Ciao!